All right ladies, let's talk about boobs! Oggi volevo parlarvi di Boop Sape, che è un nastro adesivo medico che è stato studiato per fare un effetto push-up sul seno di una donna. Ed è stato introdotto la prima volta nel 2008 da Kim Kardashian. Chi mi segue sa benissimo che io il reggiseno non lo porto mai, but avendo la schiena storta da una parte ho molto spesso problema con le scollature. I slip the nip! Quindi nelle storie di oggi vi faccio vedere uno dei tanti modi per poter utilizzare il nastro adesivo di Boop Sape. Questa è la scatola super cute rosa, potete diciamo stilizzarlo in base a quello che ognuno ha in mente di indossare. Boop Sape mi ha regalato questo nastro nero, è lungo 5 metri, è super elastico. È waterproof, quindi va benissimo per utilizzarlo durante l'estate sotto il cuscino da bagno. Primo passaggio da fare però è mettere i capri nipples per proteggere al meglio le nostre boobies. Andiamo a tagliare un pezzettino, togliamo il vetro del nastro, lo andiamo ad applicare così. strappiamo un altro pezzettino del nastro, lo ricolleghiamo così. Facciamo la stessa cosa sull'altra boobie. Wow, dovrebbe essere così! Adesso vi faccio vedere il collage del prima e del dopo. Grazie a tutti!